La raffida è l'unione delle montagne del Cimarito, del mio papà, sopra... no, c'ha i cavalli normali, insieme, il Braghi 3, è giusto? Ah, questo è il Braghi 3, 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 è il Braghi 3. A me si fumava l'etnico allavela, quando tiravi lavela ci ho detto il Braghi 3, è il Braghi 3. Qualche volta, quando lo vediamo da stai tende, si metteva una tenda, non avviso quanto si lavava qui, mentre conzellava. Parlando, parlando, è la possibilità, che quando lo sai bem, ma solleva, si mettevolo il cavallo è la donna il cavallo è la donna il cavallo è la donna ma io ho pronto e sto giusto e non mi ha detto che sta davanti eh? il cavallo è la donna non ti faccio un anno non le faccio non le faccio non le faccio non le faccio sono state parla Scusi vuoi fare filmato un po' No, però... C'è un amico mio, arriva giù... Caro Luca... E' da Weston Pleasure... Da qui ci trovano più... Weston Pleasure... Niente, lui, era sfrettissimo... E' da qui ci trovano... E' da qui ci trovano... Ma hai uscito resse? Si E' da qui qui ci trovano... Ecco il signor Luca, adesso ci infiltriamo nel bosco, cerchiamo di non fare cazzate e andiamo piano. Eh sì, aspetta, chissà se ho filmato il culo. Vediamo di non addobbarci. Siamo per entrare nel bosco delle fate. Ma ci sta il microfono? Non sto dicendo cazzate a vacanza. A meno ma, caro Francesco, ci hai onorato di questa passeggiata. Con piacere. Spero che ti diverti. Con molto piacere. E spero di poter fare anche dei lunghi viaggi insieme. A maggio, a maggio. O con questo cavallo o con un altro. Ti sei cazzato. Eh? Luca, un saluto! Non è che si può guardare sempre il culo. Il segreto del domator Luca russo. Lo possiamo vedere, eccolo. Lo sta mostrando. Vai piano, se no esce mosso. Mi, Lu, rimandiamo un prossimo filmato in altra sede. Un saluto a tutti. Sono qua il cronico. Come si speglie? Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti